Dalla giornata di ieri chi passa nei pressi di via Fratelli Zuccheri vicino all'ex pista dei go-kart si sarà accorto della nave Pontone che sta operando per depositare in mare i massi provenienti da una nave cargo ancorata più a largo e che funge da deposito per poi poterli ridistribuire nelle zone interessate da questo secondo appalto che riguarda le scogliere del nostro litorale. Dopo la Gimarra infatti è ora la volta della Sassonia. In questa fase stiamo facendo praticamente lo scarico dalla nave Blue Ship attraverso la motonave Angelo B del materiale proveniente dalle cave che sono situate in Jugoslavia. In questa fase praticamente stiamo scaricando un carico di 5.000 tonnellate e questa attività si svolgerà per i giorni di oggi e domani. Sono previsti altri due carichi in questa fase quindi per un complessivo di circa 15.000-16.000 tonnellate che ci permetteranno in un primo tempo di sistemare le tre scogliere di via Fratelli Zuccheri. Quali sono le zone interessate? Abbiamo cominciato ieri e le zone interessate sono adesso davanti via Fratelli Zuccheri facciamo l'emersione di tre setti di scogliere sommerse poi faremo due nuove scogliere davanti a Bagni Sergio e questo fino alla fine di maggio. Poi in autunno ci sarà la ripresa dei lavori dopo la stagione balneare e emergiamo quattro setti di scogliere sommerse davanti a via Le Ruggeri quindi davanti a via Le Ruggeri è il lavoro che faremo in autunno. 3 milioni di euro l'importo di questo lotto di lavori ai quali si sommeranno altri 900.000 euro per le scogliere che verranno realizzate entro la fine dell'anno davanti all'anfiteatro Rastat ci ha confermato l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi. Inoltre il ribasso d'asta ottenuto servirà per altri interventi sempre a favore della costa. Interventi attesi da tempo da operatori commerciali e residenti di una delle zone di Fano più flagellate dal maltempo. Questo conferimento possiamo dire quindi che servirà a mettere a riparo via Le Ruggeri e gli abitanti di via Le Zucchero dallo scempio che ogni anno si verifica? Lo scopo del progetto è proprio quello cioè quello di tutelare le attività e le abitazioni delle persone che operano e abitano in via Fratelli Zuccheri in via Le Ruggeri quindi lo scopo proprio del progetto e quello dell'amministrazione è quello di tutelare le persone che stanno in questa in questa area che spesso è stata oggetto di numerosi danni.